Musica Angelo Di Ponzio, allora ci racconti questa telefonata che ieri ha ricevuto? Sì, ieri pomeriggio sono stato contattato telefonicamente da un operatore, qualcuno dall'Inps dove mi chiedevano la disponibilità per portare mio figlio a fare la visita periodica quella che si fa una volta all'anno per la convalida o il rinnovo dell'assegno di accompagnamento quelle 500 euro al mese dove una famiglia riesce a fare tutto per un malato oncologico la cosa assurda è che noi il 22 gennaio che avremmo dovuto fare la visita avevamo comunicato che Giorgio era allettato e che la visita doveva essere fatta presso il domicilio poi nel frattempo il 25 Giorgio è venuto meno quando siamo andati a febbraio perché volevamo comunicare ancora ci fosse qualche erroneo accreditamento dell'assegno abbiamo visto che non era stato versato niente quindi ho detto a posto, non c'è problema e avevamo pensato che il servizio fosse stato così celere che avevano già fermato il pagamento per non incorrere in accrediti sbagliati e invece no, ieri pomeriggio a distanza di un mese e mezzo mi hanno chiamato dicendomi che Giorgio poteva fare la visita per la convalida dell'assegno di accompagnamento e ho comunicato all'operatore che mi ha chiamato mi sono fatto ripetere due volte perché sinceramente non ci credevo a quello che stavo sentendo e gli ho ricordato che mio figlio era morto già da un mese e mezzo e niente, dall'altra parte sono rimasti in silenzio perché giustamente si sono trovati in difficoltà e io non avevo più niente da dire e gli ho chiuso la telefonata Nella città dei veleni e dell'inquinamento ci si mette anche la burocrazia? Eh ma infatti la prima cosa che abbiamo detto è proprio questa è la burocrazia cioè la lungaggine per tutto quello che si fa cioè noi ne abbiamo parlato a febbraio e come proprio una conferma di quello che dicevamo noi a distanza di un mese e mezzo si è avverato cioè il problema è la burocrazia cioè tutte le pratiche tutto quello che è intorno parliamo del malato oncologico perché è la cosa dove posso esprimermi avendo passato sulla mia pelle queste situazioni cioè è assurdo che succeda una cosa che dopo un mese e mezzo essere chiamati per portare mio figlio per far venire a casa la visita per la convalida, la conferma dell'assegno di accompagnamento Prosegue l'impegno per la costituzione di una fondazione intitolata a Giorgio? Sì sì procede e giorno dopo giorno si fa sempre più più matura questa costituzione con varie persone che si stanno aggregando il progetto sta piacendo sta piacendo e sicuramente riusciremo a presentarla ad aprile noi vorremmo riuscire anche nel giorno dell'onomastico di Giorgio stiamo cercando di fare il possibile per riuscire nel frattempo con l'associazione stiamo cercando di collaborare con l'associazione Giorgio Forever stiamo cercando di collaborare con qualcuno che ci sta chiamando chiedendoci aiuti, consigli e roba varia e con il comitato NIOBE che è il comitato dei genitori che hanno perso un figlio stiamo cercando di disegnare il passo e di fare cose cose importanti cose importanti che escano al di fuori da tutte le logiche vogliamo essere un collante perché tra di noi siamo gli unici che non possiamo avere un'invidia uno con l'altro non possiamo volerci del male quindi siamo uniti da un unico obiettivo comune quindi pensiamo di andare avanti e di fare cose belle a poche settimane dalla manifestazione che si è svolta per le vie di Taranto sono in programma altre iniziative come si va avanti e come si procede lungo la strada della rivendicazione dei diritti nella nostra città? la rivendicazione dei diritti nella nostra città è una bella domanda questa bisogna cercare di... la prima cosa è quella di parlare tutti la stessa lingua questa è la cosa più importante è cercare in questo momento di non farci distrarre da quella che è il problema principale l'ambiente, le fonti inquinanti in questi giorni si parla di scuola, di classi, di spostare roba varia è un enorme problema quindi sono due problemi non è che si parla di scuola e non si parla più di quello che è l'ambiente che è la nostra causa principale dei problemi sulla cittadinanza cercare di parlare, di affrontare tutti e due i problemi contemporaneamente ma di non perdere l'obiettivo comune che è quello del fermo delle fonti inquinanti grazie